La possiamo mangiare tutti i mesi dell'anno e tutti i giorni dell'anno, la pizza di scarola, ma il sapore che ha il 24, la vigilia di Natale, è proprio tutta un'altra storia. Ha un sapore tutto diverso, cioè sa di Natale, sa di quella giornata, di quella gioia che tutti quanti si riuniscono. Ma è proprio un altro sapore, un altro sapore proprio, un altro sapore. Eccolo, la nostra bellissima, guardate qua che spettacolo. Pizza di scarola napoletana, un'altra invenzione della magica cucina napoletana. Ma ovviamente tutti quanti stanno dicendo, vabbè, tanto che ci vuole fare una pizza di scarola? C'è, ci sta sempre qualcosa da vedere e da imparare. Ma ha tutto un altro sapore, ha tutto un altro sapore, un altro sapore. Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come avete visto, faremo una bellissima pizza di scarola classica napoletana. Questa volta ci dedicheremo un po' alla rosticceria classica napoletana. Continuiamo a fare gli impasti a mano per le persone che non hanno una planetaria, in modo tale da realizzare qualsiasi prodotto senza, come dicevo, senza una planetaria o un'impastatrice. Mi raccomando, andate a guardare tutti i miei video tutorial ricette di pasticceria napoletana per realizzare dolci natalizi a casa e di tante altre ricette della classica pasticceria napoletana. Mi raccomando di guardare sempre le schede bianche che compaiono ad ogni mio video durante la lavorazione, che vi indirizzeranno a una playlist da me creata con tutte le mie ricette, oppure ad un messaggio inerente che a volte dimentico di scrivere qualcosa e vi mando un messaggio tramite questa scheda bianca. Andiamo a vedere questa magnifica lavorazione, semplice ma soddisfacente. Allora, gli ingredienti per una pizza di scarole napoletana con un ruoto da 30 cm circa, escono 2 kg di pizza totale, gli ingredienti saranno per l'impasto 500 g di farina 00, 15 g di sale, 10 g di zucchero, 50 g di olio d'oliva, 5 g di oliva di birra, 275 g di acqua tiepida, per il ripieno 1 kg di scarole lisce, pulite e tagliate, olio extravergine quanto basta, olio d'oliva, uno spicchio d'aglio, 15 oliva nere, 50 g di nuci, sgusciate a pezzetti, uva sultanina 50 g e una manciata di pinoli. Andiamo ad eseguire l'impasto, vi ho salutato ogni tanto, vi faccio vedere, vado a mettere come sempre la farina sul tavolo, vado a creare il solito cerchio di farina, ecco, vediamo, facciamo il cerchio di farina, vado a mettere tutto l'olio centralmente al cerchio, vado a mettere sale e zucchero in una soluzione sulla farina lateralmente, adesso vado a sciogliere il lievito di birra nell'acqua, acqua tiepida, in questo caso diversamente, l'inverso, metto l'acqua nel lievito, è la stessa cosa, e vado a sciogliere con una forchetta, come vedete, una volta sciolto il lievito, vado a inserire la metà del liquido, sciolgo bene il lievito nell'acqua, forse quasi tre quarti del liquido, e vado a impastare centralmente, vado a raggruppare man mano la farina, il liquido e nell'olio, ricordo che sale e zucchero sono nella farina lateralmente, ecco, adesso vado a raggruppare sempre più farina centralmente, e poi totalmente vado a inserire tutta la farina e a impastare, ecco, vedete, man mano si va a rapprendere tutto l'impasto, vado a recuperare tutta la farina che è schizzata con l'impasto, ovviamente vado a fare questa operazione su un ripiano, perché è più comodo, per chi vuole può fare anche in una ciotola, ecco, vado a mettere tutto il restante liquido, centralmente, anzi no, ne rimango un altro poco ancora, e vado a impastare, con il restante, ecco, vedete, man mano inizia ad ammorbidirsi l'impasto, giustamente, ma ci saranno ogni tanto i guanti, e adesso a questo punto, metto il finale del liquido, praticamente l'ho messo in tre volte, e vado a rimpastare liquido e impasto, in modo tale che non fuoriesca troppo poi dall'impasto, è un impasto molto semplice, non è chissà che incordatura dobbiamo raggiungere, quindi non è che è proprio un impasto particolare, quindi lo possiamo fare benissimamente a mano, come vedete, se lo vedete molliccio, non vi impressionate, non incominciate a impaurirvi, è normale che sia molliccio, inizialmente ci fermiamo, lo lasciamo un po' stare, vi dobbiamo dare giusto una battuta così, con le mani, ecco, vado a pulire le mani, e lo lascio stare, un po' a riposo, ecco, vado sempre a completare la pulizia delle mani, perché effettivamente con i guanti, è un po' difficoltoso, vado a finire di raschiare tutto il restante impasto, come vedete, lascio riposare un poco, lascio ancora così, a questo punto vado a mettere un po' di farina, in superficie, per metterlo in una teglia d'acciaio, in questo caso utilizzate, vedete, l'impasto non c'è bisogno di incordarlo, chissà che, vedete che dopo il riposo, almeno di 5-10 minuti, l'impasto tende a essere elastico, che giustamente si è riposato, vado a mettere un altro po' di farina, nella teglia, ecco, e prendo l'impasto, e lo faccio lievitare, coperto da pellicola, per 5-6 ore, praticamente il triplicare, se non il quadruplicare del suo volume, ecco, adesso vado a coprire con pellicola, e come vi dicevo, lo lasciamo riposare, per almeno 5-6 ore, in modo tale che il suo volume, triplica, praticamente, arriva fino all'orlo della teglia, e nel frattempo, l'impasto cresce, andiamo a preparare l'interno, prendiamo le scarole lisce, o scarole di Natale, come le chiamiamo a Napoli, tagliate e pulite, e asciugate, tagliate perché, in modo tale che, quando andiamo a tagliare la fetta, non abbiamo delle scarole troppo lunghe, che cadranno dalla fetta, quindi andiamo a mettere tutte le scarole, con a fiamma già, accesa sotto la pentola, andiamo a mettere le scarole a fiamma diretta, in una pentola ben capiente, e incominciamo a far appassire le scarole, vediamo che man mano poi, le scarole che iniziano ad appassirsi, man mano entreranno tutte, totalmente nella pentola, perché poi, il loro volume inizia, ad essere inferiore, quindi possiamo, persimamente, iniziare anche a girare, vado a recuperare tutti i pezzetti, ecco, vediamo che man mano, le scarole iniziano ad essere, di volume, più piccole, quindi, vado a chiudere con coperchio, in modo tale da avere, una reazione, ecco, vedete che il livello inizia, ad abbassarsi, ovviamente, io uso le mani, perché ho le mani un po', cotte già, poi mi aiuto con la forchetta, vedete, vedete come il livello, inizia ad abbassarsi, e vado di nuovo, a chiudere sempre con coperchio, man mano, che vado a girare, adesso vado a fare un'altra girata, il tutto, diciamo che dura, una ventina di minuti, la cottura, la prima cottura, diciamo, a secco, delle scarole, vedete, man mano scendono, sempre di più, e si inizia a formare, anche, un po' di acqua, in super, in, nel sottofondo, della pendola, nel fondo della pentola, e io vado a girare, sempre, ecco, vediamo, man mano, si iniziano anche a cuocere, vado a chiudere, sempre con coperchio, e vediamo, che a questo punto, le scarole, sono quasi, pronte, vedete, a questo punto, vado a spegnere, che le scarole, sono pronte, vado a togliere, tutta l'acqua, dal fondo, e in seguito, rimetterò, anche in un colapasta, ecco, vedete, con la pasta, per circa, 10-15 minuti, per far scendere, tutta l'acqua, nel frattempo, vado a preparare, una padella, con, abbondante olio, ecco, lo spicchio d'aglio, tagliato, inizio a far, soffriggere, l'aglio, e vado a mettere, le olive, le nocciolate, ovviamente, vado a girare, un poco, nel frattempo, ho preparato, una terrina, le noci, i pinoli, e, l'uva sottanina, ecco, vado a mettere, tutto, nella padella, continuo a girare, a questo punto, vado a inserire, tutte le, scarole, che hanno perso, tutta la loro umidità, sono state anche, diciamo, nello scolapasta, scolapasta napoletano, con la pasta, e vado a fare, una bella girata, vado a mettere, un coperchio, dopo 5 minuti, andrò, di nuovo, a girare, giriamo sempre, e dopo, rimettiamo, di nuovo, il coperchio, ecco, e dopo 5 minuti, andrò, un'altra girata, vediamo che le scarole, iniziano, a essere, anche, un po' più, cotte, quindi, sono molto, risultano molto, di meno, a livello di volume, vado a fare una girata, una saltata, in questo caso, delle scarole, vedete che spettacolo, tutte le noci, lua sultanina, e pinoli, spettacolo, vado a mettere, sempre coperchio, dopo sempre, 5 minuti, quest'operazione, dura, praticamente, una mezz'oretta, perché ogni 5 minuti, andiamo a girare, e andiamo, io do una saltata, a questo punto, lo posso fare, ecco, guardate che spettacolo, chiudo sempre, con coperchio, ecco, vedete, le scarole, sono, ben cotte, ben appassite, assaggiatele, e adesso, all'ultima operazione, andiamo a mettere, il sale, ovviamente, il sale, è a gusto personale, a noi piacciono, saporite di sale, diciamo, e andiamo, a fare la pizza, andiamo a mettere, tutte le scarole, ben fredde, in un, recipiente, ecco, e andiamo, guardate, la differenza dell'impasto, com'era, e come è adesso, vedete, questa operazione, dell'elitazione, dura circa, 5-6 ore, se non è, diventato, diciamo, il tripolo, se non il quadruplo, del suo volume, guardate dentro, la velatura, non potete, diciamo, continuare a fare la pizza, altrimenti, avete, una pizza abbastanza, diciamo, troppo pastosa, quando la andiamo a tagliare, ecco, vado a estrarre l'impasto, dal, dal recipiente, come vedete, l'impasto, non deve risultare, molto duro, e tenace, ma vedete, che ha una consistenza, abbastanza morbida, ecco, adesso, vado a dividere l'impasto, un terzo, lo rimaniamo, per il pezzo di sopra, e due terzi, andremo a fare, il fondo, della pizza, utilizziamo, più impasto, per fare il fondo, perché così, abbiamo, più impasto, che verrà tagliato, comunque, lateralmente, quindi, abbiamo più impasto, per lavorarlo, non andiamo in difficoltà, che è troppo poco, quindi, andiamo a prendere, due terzi, di impasto, totale, e andiamo, e iniziamo a stendere, vedete che l'impasto, come è rilassato, si va benissimo, a stendere, aiutato ovviamente, da sempre, un po' di farina, man mano, che andiamo a stendere, e, ecco, per essere la misura, diciamo che, il ruoto, o la circonferenza, dell'impasto, che abbiamo steso, e andiamo a dare, ai lati, del ruoto, tutto l'impasto, ovviamente, lasciamo ai bordi, giusto, un poco, per far aderire, poi, dopo il coperchio, vedete, se facciamo l'impasto, di questa consistenza, come ho fatto vedere, non avevamo problemi, neanche, diciamo, con l'unione, poi dopo, del, pezzo di sopra, mentre, se facciamo un impasto, molto secco, vado a bucare, con la forchetta sotto, se facciamo un impasto, molto secco, rischiamo, che poi, i due, composti, del fondo, e del coperchio, si vanno a staccare, e abbiamo bisogno, di mettere, odoratura di uovo, o acqua, ecco, a questo punto, vado a mettere, tutte le scarole, centralmente, ovviamente, in modo uniforme, ecco, adesso, sempre, aiutandomi, con farina, ovviamente, vado a stendere, il pezzo, che ho conservato, c'è, un terzo, dell'impasto totale, per fare, il coperchio, vedete, come si stende, molto facilmente, la pasta, perché, come vi dicevo, è una consistenza, abbastanza, idratata, quindi, molto facile, da stendere, ovviamente, con il ruoto, a fianco, prendiamo misura, di come, deve essere il coperchio, così, non rischiamo, di fare, troppo grande, o troppo piccolo, ecco, siamo arrivati, a misura giusta, e vado, a mettere sopra, diamo, anche centralmente, l'impasto, altrimenti, viene troppo sottile, ecco, dando, plagio ai bordi, di collegarsi, vedete, vado a dare sempre, fare con attenzione, che i due bordi, si combacino, sempre, io non ho messo, come avete visto, non ho messo, nessun tipo di olio, grasso, sotto al ruoto, ma voi lo potete, pessimamente, remettere, io non l'ho messo, perché, non c'è bisogno, con l'impasto, di pizza, non è, un impasto, che si attacca, appiccicoso, e vado, e vado a dare, una pressione, ai bordi, e poi, con l'aiuto, di un tagliapasta, in questo caso, tagliapizza, vado a togliere, il bordo, troppo, in eccesso, in modo tale, ad avere una fetta, con, un buon livello, di impasto, e anche, un buon livello, di ripieno, se a voi, vi piace, con l'impasto, superfluo, diciamo, laterale, lo potete anche, rimanere, io l'ho tolto, ecco, andiamo a togliere, l'impasto in eccesso, vuoi dare una regia, la pressione, diciamo, che l'impasto in eccesso, che è rimasto, non arriva neanche, a 50 grammi, poi, con una forchetta, vado a fare, vi faccio vedere meglio, vado a fare, una pressione, sui bordi, vedete, ecco, vedete, la pizza completata, e vado a mettere, in forno prescaldato, a 30 gradi, e poi spengo, in levitazione, per circa, diciamo, un'oretta, il tempo che, guardate, come è diventato, dopo un'ora, il tempo che levita, si vede, diciamo, che è levitata, quasi il doppio, e vado a infornare, a 220 gradi, a forno ventilato, per circa, 30, 35 minuti, ecco, vedete, come è ben levitata, ecco, dopo 35 minuti, massimo, 40 minuti, la nostra pizza, è pronta, e mettiamo, a raffreddamento, per almeno, due ore, dopo due, tre ore, possiamo, capovolgere, anche la pizza, vedete che, c'è qualche segno, di scarola sotto, ma non fa niente, e vado a mettere, su un piatto, vedete, che spettacolo, e la posso, anche tagliare, per vedere, il suo interno, per mangiarci, una fetta, una bella fetta, ecco, la fetta, bellissima fetta, di pizza, con le scarole, vi assicuro, che, è buonissima, e vediamo, anche il pezzo grande, vedete, che bello, il ripieno, i due strati, diciamo, non molto spessi, di pizza, bella morbida, ragazzi, se vi è piaciuto, questo video, mi raccomando, lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al mio canale, e, seguitemi sui social, Simone Esposito Pasticciere, sia su Instagram, che su Facebook, andate a vedere, tutte le mie ricette, della tradizione, classica napoletana, ragazzi, un bacio a tutti, alla prossima ricetta.